Nomi, cognomi e indirizzi, quanto basta per violare la privacy. Altro che pasticcio, il Comune di Prato ha commesso un errore molto grave, pubblicando sull'albopretorio online tutti i riferimenti di sei famiglie indietro con il pagamento dei servizi pre e post scuola. Cifre irrisorie, in alcuni casi poco più di una decina di euro. Feroce la polemica che si è subito scatenata. Il Sindaco ha tweetato non solo le scuse, ma anche la rassicurazione che chi ha sbagliato pagherà. Oggi è l'assessore alla pubblica istruzione a intervenire. Un errore grave, del quale sono molto dispiaciuta, perché questi fatti non dovrebbero succedere purtroppo un errore materiale. Prendiamo atto di questo, verrà fatto un procedimento disciplinare con indagini. Le famiglie che adesso potrebbero anche ricorrere alle vie legali. Questo prevede la norma, la sotera della privacy è un elemento assolutamente importante. Oltre a questo, la necessità di cambiare un sistema che funziona con la regola dello storno. All'albopretorio arriva tutto su una determinata pratica ed è l'impiegato che deve eliminare ciò che per più motivi non deve diventare pubblico. Un controllo anche sulle procedure, perché ci sono varie fasi che devono essere assolutamente controllate. Le opposizioni insorgono. Aldo Milone ha presentato una question time che sarà discussa nel Consiglio Comunale di giovedì. Duro il giudizio di Roberto Cenni. Viene anche dopo un altro errore già fatto relativamente all'indicazione di chi era rimasto coinvolto nel discorso della DENG. I dati che le amministrazioni possono avere hanno una sensibilità estremamente particolare che non può essere trattata nella maniera cialtrona in cui invece attualmente viene fatto. L'amministrazione comunale non accetta che si parli di incapacità a governare. Le procedure sono quelle in atto fino ad oggi. Se interveniamo per correggerle vuol dire che qualche falla nel sistema c'era.